Cari amiche e cari amici, Francesco Lamedola, la bestemmia di Bergoglio contro lo Spirito Santo. Durante il suo viaggio apostolico in Kenya nel 2015, Bergoglio tenne un discorso veramente memorabile, anche se non nel senso in cui lo intendono i suoi molti ammiratori, e intanto gesticolava, si atteggiava a un avvocato di tribunale, come un teatrante di seconda categoria. A un certo punto, però, tirò fuori dalle tasche due oggetti, una cononcina del rosario, e la fece svolazzare per aria, senza la minima delicatezza, come se stesse maneggiando un accendino, un fazzoletto, e poi un astuccio contenente una piccola via Crucis. Ebbene, spiegò perché egli non si separa mai da quei due oggetti. disse qualcosa di veramente incredibile, qualcosa che avrebbe dovuto far indignare i presenti, digrignare i denti e fremeri di orrore tutti i buoni cattolici, qualcosa per cui qualche anima ardente di zello avrebbe dovuto interromperlo, alzarsi in piedi, piazzargli un robusto calcio nel di dietro e cacciarlo fuori, come bestemmiatore, sacerdote indegno, venuto a creare scandalo alle anime, con la precisa, diabolica intenzione di seminare, come del resto è sua abitudine, confusione, turbamento, non portare mai parole di verità e di pace a conforto dei fedeli. Infatti, mentre parlava, declamava, mentre agitava il rosario, l'astuccio con la via Crucis, il signore argentino vestito di bianco sorrideva a quel suo sorriso beffardo che ormai tutti i buoni cattolici conoscono fin troppo bene e che hanno imparato a detestare, perché in esso si legge anche ciò che egli non dice apertamente, almeno per adesso, ed è questo. Vi sfido, cattolici da quattro soldi, provate a farmi vedere che ci siete ancora, che non siete del tutto già in potere di colui che mi ha mandato, vi sfido a mostrare il fegato che serve per mettervi a gridare, per insorgere, per scagliarvi contro di me. Ma tanto, so già che non lo farete, non lo farete mai. So che siete già schiavi del mio signore, che è il principe di questo mondo. Quel che ora faccio, lo faccio solo per avere una conferma, è un test, con il quale posso misurare tutta la vostra insipienza, tutta la vostra vigliaccheria, tutto il vostro conformismo. Dal momento che state mandando giù anche questa mia ultima bestemmia, dal momento che nessuno di voi insorge, nessuno protesta, questa è la conferma che i tempi sono maturi per dare la spallata finale alla Chiesa di Gesù Cristo. Fanno crollare, marcia com'è, sulle sue stesse fondamenta. Per questo sono stato eletto, e per questo mi sono adoperato nell'arco di sette anni tutti i giorni, ogni ora, fin dal primo istante, per seminare dubbi, confusione, spargere a piene mani ambiguità e contraddizione, per togliervi le ultime difese e per avere la conferma che ormai siete miei. Nessuno mi resisterà, nessuno mi resiste. Non mi resta da fare altro che stendere l'atto di morte sull'opera terrena del mio nemico Gesù Cristo, perché quel Gesù è morto sulla croce, non è mai risorto. Infatti non era che un semplice uomo. Ecco perché la via Crucis è la storia del fallimento di Dio. Se Gesù fosse risorto, come potrei ora dire una cosa del genere? Ma non è risorto, non è risorto, e dunque nemmeno voi siete stati riscattati dal peccato. Peccato, la vostra speranza è vana e siete tutti legati e consegnati al potere del principe del mondo che vi tiene stretti, avvinti, dal quale non avete alcuna speranza di fuggire. Ecco, queste cose si possono leggere nel sorriso beffardo sfrontato e nella luce malefica del suo sguardo, quando costrui bestemmia pubblicamente e gode nel vedere l'assenza di reazione e nel constatare quanto sono torpidi e fiacchi, inconsistenti, i cattolici dei nostri giorni. Come ascoltano, impassibili le sue sconcezze, le sue enormità, le prendono per buone, come se avesse offerto chissà quali perle di saggezza e avesse espresso chissà quale altro raffinato concetto teologico o chissà mai quale nobile esortazione a perseverare nella fede e nella vita cristiana. Proprio lui, il peggiore eretico, il peggior nemico di Cristo che abbia mai avuto l'ardire di introdursi nella chiesa per avvelinare dall'interno la sorgente della stessa fede. Del resto, a ben ragione di sorridere con piaciuto e soddisfatto, il test è riuscito a meraviglia. Su un miliardo e trecento milioni di cattolici, se ne tornano ci sono solo poche dozzine disposte alzarsi in piedi a protestare contro le infami novità introdotte nella vita della chiesa dal controclero modernista e massone. Sì, modernista e massone. A proposito di opposizione, non c'è quasi nessuno sacerdote. Eppure lui, quelli come lui, Paglia, Spadaro, Galantino, Bianchi, ah, a proposito di Bianchi, non è un prete, viene fatto passare per tale. Il settimanale ex cattolico famiglia cristiana lo presenta ai lettori come un grande maestro di spiritualità dei nostri tempi, ma non è neanche un prete. Va bene, dicevo, Paglia, Spadaro, Galantino, Bianchi le sparano talmente grosse che al tempo dei nostri nonni e dunque non più di una cinquantina d'anni fa, se la ventesima parte delle loro bestemmie eresie fosse uscita dalla bocca, non dico di un vescovo o di un parroco, ma anche solo di un sacrestano, costui sarebbe stato messo alla porta in 448 come persona manifestamente indegna di servire nella chiesa cattolica come un eretico impenitente, un deliberato seminatore di scandali. E parlando ai giovani, nello stadio Caserani, Nairobi, venerdì 27 novembre 2015, ecco il signor Bergoglio che cosa dichiara testualmente. vi farò una confidenza. In tasca porto sempre due cose e intanto tira fuori dalla tasca e le mostra. Un rosario, un rosario per pregare e una cosa che vi sembra strana. Cos'è questo? Questa è la storia del fallimento di Dio, è una via crucis, una piccola via crucis. Intanto mostra un astuccio che si apre e contiene delle piccole immagini. È il fallimento di Dio. È come Gesù ha sofferto da quando è stato condannato a morte fino a quando è stato rivolto. E con queste due cose cerco di fare del mio meglio, ma grazie a queste due cose non perdo la speranza. Ma queste parole abominevoli, eh sì, abominevoli, che tirano un rigo sopra duemila anni di dottrina, di storia della Chiesa, rendono superflua l'esistenza stessa sia della dottrina che della Chiesa, dette oltretutto con la solita rozza, inverosimile leggerezza, intercalate alla domanda se quei giovani avessero fame perché erano di pranzo e come potrebbe fare un direttore d'albergo, ma come di certo non faceva Gesù Cristo quando parlava alle foglie. Insomma, queste parole atroci. Pensate proprio con lo scopo malvagio di inquinare, se è possibile, di strappare via ogni speranza dal cuore dei giovani cattolici. Perché se la morte di Gesù sulla croce è stata il fallimento di Dio, allora tutta la storia del cristianesimo non è che una gigantesca assurdità, un gigantesco equivoco, un malinteso. Si possono leggere nero su bianco sul sito ufficiale della Santa Sede, presso la cattolicissima, si fa per dire, TV 2000. Nessuna manipolazione dei nemici occulti di Bergoglio, nessuna manipolazione di cardinali conservatori come Burke, Sarà, nessuna perfida fake news messa in giro da qualche giornalista senza scrupoli. Quelle parole tremende e intollerabili Bergoglio le ha dette veramente con la massima intenzionalità. Si, le ha dette, guardando dritto negli occhi gli interlocutori, ammiccando con una particolare aria di complicità alle autorità presenti in prima fila. Le ha dette a mente lucida, scandendo le sillabe, sottolineando con i gesti e il tono di voce i passaggi più scandalosi. Le ha dette, le ha dette, le ha dette, intanto sorrideva, le ha dette e intanto si godeva la scena, scrutava i volti, cercava i segni di un pur minimo dissenso, anche un disagio piccolo, dissimulato. Ma quale cattolico potrebbe ascoltare un simile discorso e rimanere indifferente, addirittura approvarlo, condividerlo? Udire simili affermazioni dalla bocca di un papa, senza restare feriti fino al fondo dell'anima, avvertire un sapore amaro in bocca, come se gli fosse stato propinato al tradimento il più tossico dei veleni. Dunque, secondo Bergoglio, la Via Crucis è la storia del fallimento di Dio. Sì, ha detto proprio così, la Via Crucis è la storia del fallimento di Dio. Ma davvero? Allora andiamo a prendere il catechismo della Chiesa Cattolica, leggiamo cosa dice a proposito della giustificazione degli uomini e della redenzione operata da Gesù mediante la sua passione, morte e resurrezione. 1987. La grazia dello Spirito Santo è il potere di giustificarci, ossia di mondarci dai nostri peccati e di comunicarci la giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, mediante il battesimo. Se siamo morti con Cristo, crediamo anche che viviamo e viviamo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non morirà più. La morte non ha più potere su di Lui. Per quanto riguarda la sua morte, morì al peccato una volta per tutte. Ora invece, per il fatto che Gli vive, vive per Dio. E così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Gesù Cristo. 1988. Per mezzo della potenza dello Spirito Santo noi prendiamo parte alla passione di Cristo, morendo al peccato e alla sua resurrezione, nascendo a nuova vita. Siamo le membra del suo corpo che è la Chiesa. Per mezzo dello Spirito tutti noi siamo detti partecipi di Dio, entriamo a far parte della natura divina, mediante la partecipazione allo Spirito. Ecco perché lo Spirito divinizza coloro nei quali si fa presente. 1989. La prima opera della grazia dello Spirito Santo è la conversione, che opera la giustificazione secondo l'annuncio di Gesù all'inizio del Vangelo, convertitevi perché il Regno dei Cieli è vicino. Sotto la mozione della grazia, l'uomo si volge verso Dio, si allontana dal peccato, accogliendo così il perdono e la giustizia verso l'alto. La giustificazione non è una semplice remissione dei peccati, ma anche santificazione e rinnovamento interiore. 1990. La giustificazione separa l'uomo dal peccato, si oppone a quel peccato che si oppone all'amore di Dio e purifica dal peccato il cuore degli uomini. La giustificazione fa seguita all'iniziativa della misericordia di Dio che offre il perdono. 1991. La giustificazione al tempo stesso accoglienza della giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, qui la giustizia disigna la rettitudine dell'amore divino. Insieme con la giustificazione vengono infuse nei nostri cuori fede, speranze e carità e ci accordate all'obbedienza alla volontà divina. E in ultimo 1992. La giustificazione c'è stata meritata dalla passione di Cristo. È accordata mediante il battesimo, sacramento della fede. Dunque, non solo il sacrificio di Cristo era necessario per il divino piano di salvezza, ma i fedeli partecipano a quel sacrificio morendo al peccato come Cristo è morto sulla croce e risorgendo alla vita di grazia mediante la sua resurrezione. Il tutto con la mediazione e l'intervento dello Spirito Santo che opera in loro. Eh, ma a questo punto sorge una legittima e ragionevole domanda. Ma Bergoglio, ma lo ha mai letto il catechismo della Chiesa? Se sì, Bergoglio, ma si ritiene cattolico? E noi, comuni fedeli, cosa ne pensiamo? Un cattolico può dire quello che dice lui al tempo stesso continuare a professarsi cattolico, anzi addirittura Papa, vicario di Cristo in terra, ma lo può dire? E può far scomunicare, far cacciare, far commissariare degli altri cattolici, dei religiosi, per la sola ragione che cercano di resistere alla sua pretesa di stravolgere la dottrina e il magistero perenne e vorrebbero difendere per amore di Gesù Cristo e per il bene delle anime la dottrina e il magistero di sempre. La risposta l'ha data lui stesso quando ha affermato Dio non è cattolico. Ma insomma, che altro serve per capire chi è quest'uomo? Che altro? Gesù stesso dice qualunque peccato, qualunque bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo spirito? No, questa non sarà perdonata. Chiunque parlerà male del figlio dell'uomo sarà perdonato, ma la bestemmia contro lo spirito non sarà perdonata né in questo secolo né in quello futuro. Ora, definendo la passione e la morte di Gesù Cristo è il fallimento di Dio, il fallimento di Dio. Ecco, Bergoglio disprezza l'opera dello Spirito Santo e si macchia così del solo e unico peccato davvero imperdonabile. Bene, cari amici e cari amici, un pollice su per il mio lavoro, un grazie a Francesco Lamedola e sempre incollati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.